bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi se avevate ancora dei dubbi sul fenomeno fortnite beh quello che sto per dirvi ragazzi sicuramente li toglierà tutti in giro per il web ragazzi guardate che cosa sto per farvi vedere forse non lo sapete ragazzi ma il famosissimo calciatore francese dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann ha fatto un gol eccezionale allo sporting Lisbon giovedì sera nell'Europa League e quando ha dovuto esultare ha riprodotto una delle emoticons più celebri di fortnite ragazzi il take the hell praticamente il 27enne si è reso protagonista di queste esultanze particolari in più di un'occasione ma questa volta è stato veramente palese il suo coinvolgimento con fortnite andate a vedere ragazzi è molto veloce molto veloce ma volevo proprio farvelo vedere perché è veramente una figata guardate ragazzi guardate che roba qua lui è appena segnato guardalo guardalo eh agente invisibilio che ha fatto il gol i compagni di squadra lo vanno ad abbracciare uno con l'altro uno con l'altro guarda che roba eh guarda che roba adesso aspetta guardalo 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 qua porco giù da porco era palesemente ragazzi il take the hell che abbiamo anche noi in fortnite ragazzi meraviglioso meraviglioso ragazzi questo è stato una clip molto molto divertente che ho pescato in giro guardando notizie su fortnite spero che vi abbia fatto sorridere io vi ringrazio per avere guardato questo video velocissimo vi ricordo un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto ciao ciao